Sta per iniziare l'incontro intitolato L'appuntamento è trasmesso anche in streaming sul sito www.estoria.it e scrivendo un messaggio via WhatsApp o Telegram al numero 331 1682 969 è possibile inviare alla social room di Estoria le domande per i relatori Buona storia a tutti Buongiorno a tutti e grazie a Estoria per l'opportunità che ci dà di poter presentare questo lavoro che è frutto di uno studio molto importante e variegato perché ha dovuto mettere assieme tanti tipi di competenze di Kirsten Duesberg e poi con il professor Paolo Ferrari un progetto che poi è anche diventato un convegno alcuni anni fa che poi si è trasformato in un libro il titolo di questa conferenza che è anche appunto il titolo del libro è in tre lingue perché in tre lingue perché è questa storia che viene raccontata di una decina di persone di ricoverati dell'ospedale psichiatrico di Udine che furono poi deportati in Germania all'inizio della seconda guerra mondiale è una storia che ha a che fare appunto con la nostra regione e con la multiculturalità, il multilinguismo, la multinazionalità della nostra regione quindi è particolarmente importante perché unisce le tematiche dei rapporti diciamo fra gli stati, le nazioni e anche i rapporti fra i popoli le difficoltà che ci sono state nel Novecento con l'avvento del fascismo e del nazismo proprio riguardo ai rapporti fra popoli diversi fra italiani, sloveni e tedeschi in questa regione in particolare e poi anche però questo tema si interseca con le problematiche della emarginazione e della repressione della malattia psichiatrica e quindi è un tema importantissimo perché ha a che fare con tanti aspetti della società anche attuale in cui viviamo in tutto il mondo Kirsten Maria Duisberg che ci racconta oggi di questo progetto e di questa ricerca è tedesca come dice il nome stesso si è laureata in sociologia all'università di Berlino e da moltissimi anni in Italia perché era particolarmente interessato ormai alcuni decenni fa a tutta la questione dell'esperienza di Basaglia, insomma della psichiatria conseguente alla riforma appunto della legge che ci fu nel 75, no? 78 78, sì e quindi diciamo è anche un esempio di come in questo caso l'Italia possa essere stata per l'esperienza che aveva fatto in quegli anni con la malattia psichiatrica, un esempio diciamo per altri altri studiosi del resto d'Europa e anche del mondo attualmente in Italia si occupa di progetti culturali che hanno a che fare appunto con la storia e la sociologia della psichiatria e della salute mentale però ha anche operato attivamente fino a un paio di anni fa nei servizi proprio per la salute mentale quindi do la parola a Kirsten che ci racconta come è nata questa ricerca io inizierei proprio con un tuffo direttamente nella storia dopo racconto un po' meglio come è nata la ricerca premetto soltanto che effettivamente per me è stata un'esperienza insolita insolita mi scuso per l'accento che poi quando sono emozionata diventa molto forte e anche dopo 25 e anche se sono qui dal 96 non vuole diminuire è così e devo dire che noi sapessimo parlare tedesco però in questo caso per il progetto di questa ricerca effettivamente è stato molto utile questo mio background diciamo tedesco, la conoscenza della lingua è stato molto insolito per me incontrare queste persone sulle quali abbiamo fatto la ricerca che erano appunto persone di lingua tedesca e slovena della Valcanale perché qui anche siamo abituati in questa regione di vivere tedeschi almeno se pensiamo alla storia come carnefici come coloro che hanno occupato insomma il regime nazista questa regione anche in questo caso questo piccolo gruppo della comunità tedesca della Valcanale e slovena erano vittime vittime di un regime fascista di un regime nazista e soprattutto della psichiatria di quell'epoca e forse sì per la mia formazione appunto nella conoscenza anche del lavoro pratico nella salute mentale aver partecipato alla chiusura dell'ospedale psichiatrico mi ha particolarmente coinvolto allora dove ci portate io alterno un po' la libra così parlare liberamente con alcune letture è il titolo che abbiamo scelto per la ricerca una ricerca transfrontaliera sulla storia di alcune donne e i uomini che erano internati all'epoca nell'ospedale psichiatrico di Udene di origine della Valcanale se qualcuno non lo sa è l'estremo lembo nord orientale al confine con l'Austria e la Slovenia va da Tarvisio fino a Ponteba internati nell'OPP di Udene le quali nel maggio del 1940 insieme a centinaia per la precisione 291 pazienti internati degli ospedali psichiatrici dell'Alto Adige e del Trentino sono stati deportati nella Germania nazista di nuovo in ricoverati internati presso gli istituti ospedali psichiatrici tedeschi e questo nell'ambito degli accordi per le opzioni italo-tedesche del 1939 la popolazione delle comunità minoritarie quella tedesca ma anche quella ladina e slovena dei territori di confine sudorolesi e della Valcanale era chiamata a scegliere fra la cittadinanza tedesca e italiana in realtà fu una scelta fra il restare nella propria terra in Italia quindi o il trasferimento o accettare con l'assunzione della cittadinanza tedesca anche il trasferimento nel Terzo Reich la questione dell'opzione era intimamente legata al fatto che 1938 l'Austria era stata annessa dalla Germania nazista quindi l'Italia aveva un confine a questo punto con la Germania nazista e Mussolini ha legato il suo supporto a Hitler a una garanzia rispetto alla stabilità di questo confine entrambi i regimi inoltre erano spinte da un estremo nazionalismo e razzismo etnico quindi attuavano operazioni di pulizia etnica no e l'opzione poi inizialmente pensata solo per il territorio del Sud Tirole è stato esteso alla Val Canale infatti le otto persone pazienti internati erano appartenenti alla comunità di lingua tedesca slovena e alcuni dei loro familiari avevano anche optato per la cittadinanza cosiddetta germanica e perché parliamo allora di un trasferimento forzato e di deportazione questo è stato un punto importante della ricerca gli accordi avevano stabilito erano stati stabiliti negli accordi era stato previsto che da una certa data in poi dall'inizio del 1940 ogni giorno dove avrebbe dovuto trasferirsi un certo numero di optanti dai territori italiani di confine dal Sud Tirole della Val Canale in Germania ma per molteplici motivi e ritardi questa cifra questo obiettivo non venne rispettato da entrambi i lati né dalle diciamo uffici dalle funzionali italiani né dall'organizzazione tedesca e per uno motivo era la guerra in corso a giugno Italia entrata appunto nella seconda guerra mondiale in questa situazione le autorità italiane in accordo con le autorità tedesche deciso di portarsi avanti trasferendo intanto la parte della popolazione che per lo Stato italiano costituiva un peso economico ma soprattutto si trattava di persone che non potevano scegliere difendersi opporsi a un trasferimento forzato ed erano appunto le persone internate negli ospedali psichiatrici oppure presso gli istituti per disabili oppure gli anziani delle case di riposo i poveri anche cacerati in tutto più di mille persone non dalla Valcanale ma parlo di tutto il territorio compreso l'Alto Adige questi trasferimenti avvenivano mentre nella Germania nazista si stavano attuando i programmi di sterminio di massa dei pazienti psichiatrici delle persone portatrici di disabilità la cosiddetta azione T4 che forse qualcuno di voi ha sentito nominare in realtà in Alto Adige si sapeva di questi programmi anche se solo in forma di voci e per molti anni infatti si credeva che i pazienti italiani sottorolesi e valcanalesi sarebbero stati uccisi nell'ambito del sterminio in Germania sono state invece ricerche recenti tra qui anche la nostra che hanno dimostrato che non era proprio così i pazienti psichiatrici optanti erano sulle liste avrebbero dovuto essere incluso nel programma di sterminio però per motivi diciamo diplomatici politici per non compromettere o mettere a rischio l'alleanza con l'Italia fascista furono risparmiati perché arrivavano comunque dall'Italia ancora come cittadini italiani optanti che sulla carta avevano scelto formalmente un rimpatrio e in Italia c'era una certa opposizione dalla chiesa cattolica e anche dalla società di psichiatria italiana rispetto al concetto della cosiddetta eutanasia radicale che significava per esempio l'uccisione delle persone che non cosiddette vite non degne di essere vissute oppure anche la sterilizzazione coata quindi metà dei pazienti trasferiti in Germania sono morti lo stesso molto presto nei primi anni dell'arrivo entro la fine della seconda guerra altri hanno vissuto a lungo anche dopo la fine del fascismo del nazismo e della seconda guerra mi fermerò dopo su questa alta mortalità nei ospedali psichiatrici era un fenomeno comune diciamo a quasi tutti gli ospedali psichiatrici non solo in Germania anche in Italia era delle volte in Germania voluto una sorta di stemminio nascosto per fame e abbandono in Italia non ci sono state ancora ricerche che hanno approfondito come mai la mortalità era così alta anche negli istituti italiani anche a Udine per esempio ecco scusa infatti mentre in Germania lo studio appunto della repressione nei confronti dei malati psichiatrici già da molti decenni è stata avviata e anche raggiunto decenni del 39 con l'inizio della seconda guerra del primo settembre praticamente da quando la Germania invasa la Polonia è iniziato lo sterminio dei pazienti psichiatrici delle persone portatrici di disabilità ma ci torno fra un attimo sì no ma io dicevo in Germania comunque nel dopoguerra di questi argomenti si è parlato parecchio e anche si sono raggiunti molti risultati scientifici storici ci sono anche musei che parlano di questi argomenti mentre invece in Italia è un argomento che è stato poco trattato diciamo che e qui sarebbe la seconda slide allora è una delle domande che accompagna la ricerca ma anche la conferenza di oggi chi viene non credo che è riuscito a leggere vero non si riesce chi viene incluso quando e come nella memoria storica collettiva e nella commemorazione delle vittime del nazionalsocialismo del fascismo e della psichiatria è una domanda cruciale per questo progetto tu dicevi che in Germania è vero è nata negli anni ma a partire soltanto dagli anni 80 una importante ricerca una cultura cosiddetta della memoria che include anche i pazienti internati le persone insomma uccisi non si sa mai come chiamarli persone internate nei manicomi oppure persone portatrici di sofferenza psichica disabilità però complessivamente il ritardo è trasversale e questo ritardo col quale queste persone vengono considerate dalla ricerca e magari descrivendo come è nata questa ricerca può dare qualche idea anche sulle cause e sulle come mai che appunto esiste questo ritardo questo silenzio che accompagna per 70 anni 80 anni le storie di queste persone tu avevi già detto che la ricerca mia in realtà è iniziata proprio al margine del mio lavoro precedente quando ero operatrice per una cooperativa sociale nei servizi di salute mentale di Udine un medico della zona di Udine nel territorio frullano dottor Achinto Anzil aveva segnalato a dottor Novello l'attuale direttore non l'attuale il direttore di allora del dipartimento salute mentale questa vicenda storica che lui aveva saputo da una pubblicazione tedesca lui sapeva il tedesco aveva lavorato un paio di anni in Germania aveva appreso che c'è stato un coinvolgimento anche di pazienti italiani e frullani figuravano come pazienti frullani nella appunto persecuzione dei pazienti in Germania e il dottor Novello che era stato un ex collaboratore di Franco Basale che insieme alla sua equipe a partire da metà anni 90 ha chiuso il manicomio di Udine è stato applicato la riforma con qualche anni di ritardo per la sua formazione culturale aveva una certa sensibilità e poteva anche comprendere la portata delle cose che si interessa per la sua formazione culturale per le storie di queste persone caratterizza proprio questo tipo di ricerca che nascono spesso da operatori da operatrici non negli ambienti accademici anche se dopo ha avuto il supporto e la collaborazione da parte dell'università sia di Udine che in Germania proprio perché la storia della psichiatria un po' rispecchia il problema della psichiatria che è un'istituzione chiusa che non anche nella ricerca si nota che solo in Germania certi medici specializzati in storia si occupano della storia della psichiatria spesso viene ignorato dalla diciamo storiografia diciamo mainstream e hanno combattuto letteralmente operatori operatrici ma anche molti familiari di pazienti che sono o stati uccisi o stati vittime della psichiatria nazista per esempio che hanno portato alla luce queste storie che anche in Germania per tanto tempo per troppo tempo sono state ignorate quindi ho contattato e qui il slide 3 però forse non occorre ne i quattro sì un centro di ricerca tedesca che si occupa della storia etica della medicina e della psichiatria che gestiva che gestisce gli archivi delle cartelle cliniche dell'istituto dove questo gruppo di pazienti sono arrivati nel 1904 fatto e insieme a questo istituto abbiamo poi deciso di avviare una ricerca che per ricucire le storie di vita di queste persone che erano due volte spezzate uno per l'internamento nell'istituzione psichiatrica sia in Germania che in Italia ma soprattutto anche per lo spostamento e quindi volevamo dare un contributo tramite una collaborazione italo-tedesca che potesse se non compensare oppure dare un piccolo contributo per almeno far conoscere quello che una precedente alianza tedesca appunto fascista nazista aveva commesso perché in fondo era un crimine e quindi anche poi grazie al tuo contributo Alessandra oppure il contributo di Angela Bertoni persone che di per sé erano sensibili alle storie di persone diciamo immaginate che facilmente scappano alla storiografia così adesso altrimenti forse in certi momenti avrei anche smesso un ulteriore motivo per il quale è stato portato avanti la ricerca che è stato poi il contatto diretto è una cosa un po' strana attraverso le cartelle cliniche le fotografie con queste persone che hanno cartelle cliniche che però erano spesso molto avare di informazioni avete dovuto fare una lunga ricerca per ricostruire un po' le vite di queste persone e lì effettivamente ci voleva anche la competenza di una psichiatra per la lettura di queste aride notizie Angela Bertoni che era psichiatra del DSM di Udene ex-direttore del DSM di Udene e che come novello appunto forse come formazione culturale chiaro il valore di ricerca di questo tipo quindi è stata alimentata anche per in qualche modo poterli forse commemorare queste persone e riportarli un po' questo ricordo anche nella zona di origine nella Val Canale ma lì c'è un'altra causa dei ritardi è proprio questo le comunità di origine tedesche e slovene in Val Canale sono completamente disgregate a causa delle opzioni sono rimasti pochi tedeschi anche relativamente pochi sloveni e inoltre la mancata elaborazione della storia la mancata il mancato riconoscimento anche da parte diciamo della società anche della politica nei confronti di queste vittime ha fatto perdurare anche nei familiari questo senso di stigma di colpa di vergogna ancora oggi e questo vengono perpetuate all'interno dei nuclei familiari che per esempio hanno paura di vedere il nome e il cognome delle loro persone mentre non so per commemorare chi è partecipato alla resistenza o anche è normale citare nome e cognome o chi è stato internato nei campi di concentramento per altre cause mentre qui c'è la questione che essendo stati pazienti psichiatrici scatta questa cosa del rispetto della privacy per esempio dei dati sensibili che si mescula a questo senso di vergogna di aver avuto magari un parente e questo si nota in piccoli comuni tuttora quindi scusa diciamo che nel ricostruire questa vicenda di questa decina di pazienti psichiatrici deportati in Germania avete incontrato tanti tipi di difficoltà e avete dovuto anche unire una ricerca proprio locale con la ricerca più ampia a livello internazionale o trasfrontaliera sì rispetto alle difficoltà e qui se possiamo passare ancora gli slide ecco l'incontro è già passato con la persona ecco questo è per i malati e portatori di disabilità il 1945 non rappresentò una cesura equivalente alla liberazione degli internati dei campi di concentramento semplicemente l'istituzione continuava a esistere spesso con lo stesso personale in Germania in Italia comunque era particolarmente grave in Germania perché in questi istituti erano diventati centri di morte veri campi simili a campi di concentramento e quindi questo stato di cose perdura finché iniziano le riforme della psichiatria in Germania e poi anche in Italia infatti ha dato un grandissimo contributo in questo senso il movimento anti-istituziale italiano forse l'avrei detto dopo ma insomma questo Angelo del Bocca che era uno studioso del colonialismo italiano e ha proposto per primo il paragone del manicomio come larga che poi è stato ripreso da Franco Basaglia e poi insomma leggendo anche Goffman l'istituzione totale ma questo poi ha permesso di proprio di aprire l'orizzonte e di vedere che questa istituzione proprio assomigliava più a un campo on laga che non a un'istituzione di cura e da lì sono stati poi iniziati le ricerche il primo convegno sulla questione dell'atto adige sui malati sulle persone deportate e pazienti è stato organizzato dalla psichiatria democratica nel 95 a Bolzano quindi c'è un intimo legame fra il movimento della diciamo riforma e l'emersione di queste storie che erano in qualche maniera state dimenticate o poco trattate sì prima di così entrare un po' più in alcuni aspetti tematici possiamo vedere lo slide 12 forse si non riesco c'era Angelo Delbocca va bene 12 ecco non si vede comunque è troppo piccolo volevo farvi vedere questo il canale l'ospedale psichiatra di Udine Pergine Trifalten se si fosse trattato di un diciamo vero rimpatrio i pazienti dell'ospedale di Udine avrebbero dovuto essere trasferiti in Carinzia dove le loro famiglie sono andate dopo l'opzione invece c'è stato questo viaggio via Pergine in un ospedale psichiatra a 500 chilometri di distanza e anche altre circostanze poi credo che permettono di parlare di una deportazione non di un trasferimento Pergine scusa è una località un paese una cittadina in provincia di Trento dove c'era un ospedale psichiatrico c'è ancora è chiuso anche questo però lì sono stati concentrati i pazienti della Valcanale del Trentino e dell'Alto Adige per poi essere trasportati in Germania prima per entrare un po' più nei dettagli sia delle storie delle persone che di quello che è successo durante la deportazione però volevo giusto richiamare l'attenzione allo sfondo storico che era come collocare questo evento locale cito perché si intersecono due piani il razzismo etnico e il razzismo possiamo dire razzismo verso le persone con disabilità o internati in Germania si parla del razzismo oogenetico perché c'era proprio la scienza pseudoscienza dell'ogenetica che giustificava la persecuzione e lo sterminio poi alla fine questa selezione delle vite non degne di essere vissute lo sfondo storico per quanto riguarda diciamo la pulizia etnica lo descrive Roberta Berga con queste parole lei parla dell'alto adige ma si può tradurre proprio parola per parola anche per la situazione in Valcanale gli episodi che qui esponiamo rappresentano comunque molto più di un frammento di storia locale in essi si afferma la visione fascista di una nuova società italiana senza spazio per l'altro poi le politiche demografiche durante la prima metà del novecento sono caratterizzate da specifiche ideologie tese ad abbinare popoli e terre la maggior parte degli spostamenti di massa si collega alla concezione del territorio nazionale come spazio omogenuo destinato a contenere unicamente persone della stessa lingua della stessa cultura tradizione e credenza la nazione nella sua espressione di stato politico è quindi intesa come comunità organica come un corpo e l'appartenenza a tale comunità è legata a caratteristiche innate intrinseche e inallegnabili quindi la ricerca di uniformità e unità interne mirava ad aumentare a sostenere il potere esercitato all'esterno in ultimo gli spostamenti di massa della prima metà del ventesimo secolo si imperniano su una visione radicale dell'etnicità come caratteristica immutabile e determinante nella formazione di uno stato nazione tale caratteristica però si coniuga con una straordinaria fiducia nella possibilità del social engineering con interventi statali finalizzati sia all'aumento della popolazione che ha il suo perfezionamento psicofisico e questo era il piano che riguardava l'opzione questa scelta arbitraria obbligare un popolo multilingue molto etniche a scegliere fra due stati e nel caso di fra due diciamo sì cittadinanze si può ricordare che se uno di lingua tedesca o slovena delle valli della Val Canale non accettava l'opzione per il terzo Reich per la Germania era costretto ad abbandonare e a rinunciare alla propria lingua alla propria cultura lo sloveno e il tedesco erano c'era di vieto di parlare in pubblico tedesco e sloveno dopo il 1926 poi anche cittadini italiani di lingua tedesca comunque avevano molte difficoltà di avere un lavoro negli uffici italiani c'era proprio una sorta di oltre a un razzismo antislavo che conosciamo di più questa volontà di espellere la parte tedesca sì però è importante spiegare questa cosa qua perché anche gli sloveni della Val Canale centrano con queste opzioni sì infatti centrano perché vivevano lì e proprio rende forse questo fatto evidente quanto queste politiche razziali erano abitrari per certi verti fogli perché hanno discusso mesi gli funzionali tedeschi italiani cosa fare con la popolazione slovena potevano partecipare dovevano partecipare all'opzione o meno i tedeschi inizialmente avevano paura che il trasferimento dei sloveni Val Canalesi in Carinzia poteva aumentare rafforzare la comunità slovena che era vissuta come un nemico del nazismo poi alla fine ha prevalso questa caccia ai voti perché l'opzione era diventata anche una questione di prestigio chi prendeva più opzioni e anche una questione economica soprattutto l'Italia avesse voluto che gli sloveni restino perché perdevano forze lavori eccetera quindi c'erano questi calcoli sta di fatto che solo a giugno del 1940 era stato deciso che anche i sloveni potevano partecipare e bisogna ricordarsi questa data perché i pazienti sono stati deportati un mese prima e c'erano pure pazienti sloveni parte di questo gruppo quindi era un altro dato che ha dimostrato che si trattava di una deportazione perché non avrebbero potuto trasferire formalmente sloveni in quel momento però questo per la parte diciamo del razzismo etnico per la slide numero 15 o 14 anche il trattamento equo e umano delle persone malate anziane in particolare dei malati di mente scusate sono espressioni dell'epoca di Karl Stulfara degli anni 80 uno storico austriaco oggi non si direbbe più malati di mente ma persone con esperienza di disagio il trattamento equo e umano delle persone malate in particolare dei malati di mente non costituiva un elemento significativo per le ideologie dei due regimi fascisti fondati sui principi della forza virile dei giovani maschi della violenza eroica e della selezione secondo i principi del social davinismo e il prossimo slide la psichiatria italiana ha aderito pienamente al fascismo si è compromesso con l'adesione a questo manifesto della razza nel 38 quindi due anni prima di queste faccende delle opzioni di portazione dei pazienti il manifesto della razza era forse lo conosci meglio tu si beh riguarda naturalmente le leggi razziali che furono proclamate nel 38 da regime fascista e il 18 settembre del 38 furono annunciate da Mussolini stesso a Trieste nella piazza unità d'Italia e quindi questa rivista che era fra l'altro aveva nella redazione anche un certo personaggio che si chiama Giorgio Almirante a cui oggi in Italia si vorrebbero dedicare se non sono già state dedicate vie o piazze faceva parte della redazione di questo giornale che era praticamente e non so se qualcuno di voi ha occasione di leggerlo magari trovandolo in qualche biblioteca assolutamente si può dire oggi demenziale si potrebbe dire ecco l'unica società scientifica che ha aderito a questo manifesto era proprio la società credo che non si chiamava ancora psichiatrica ma della freniatria italiana e quindi l'avevo già detto mentre in Germania c'era un'esplicita persecuzione e sterminio delle persone con disabilità comunque anche la psichiatria italiana era diciamo diventato non c'era verso per la psicoanalisi per esempio di entrarci era una psichiatria biologica organicista molto legato all'idea dell'origine appunto innato della malattia mentale o della pazzia e in particolare nel 38 c'è stata anche l'invenzione delle malattie shock in questo caso l'eletto shock quindi diciamo era una psichiatria che usava metodi violenti rispetto negli ospedali psichiatrici però dicevi che i psichiatri italiani non erano però d'accordo con la con la deportazione in Germania no no con la deportazione non si è sposto nessuno figurava come un ripatrio si sono opposti anche pubblicamente a ogni probabilmente per l'influenza della chiesa cattolica contro ogni intervento del tipo cosiddetta eutanasia radicale le sterilizzazioni coatte oppure l'omicidio delle persone no quindi adesso vorrei venire un po' più in qua questo era lo sfondo diciamo storico questa psichiatria e questo tipo di diciamo politiche razziali se puoi passare alla l'azione T4 l'abbiamo visto il canale del ferro va al canale e quindi l'ho detto questo piccolo pezzettino di terra non solo di tre lingue in realtà quattro perché c'era anche il frullano e una parte abbiamo già anticipato Lara Magri direttrice del museo etnografico di Malboghetto ha fatto delle ricerche approfondite sulle opzioni e le conseguenze nella val canale e scrive nel 1926 i sindaci vennero sostituiti dai podestà di nomina governativa e si diede inizio all'opera di italianizzazione del territorio che si concretizzò in particolare con il divieto di utilizzare la lingua tedesca in pubblico e dello sloveno e con l'obbligatorietà dell'utilizzo esclusivo dell'italiano nelle scuole e questo aveva delle conseguenze anche a livello diciamo proprio familiare andava a sconvolgere ovviamente equilibri perché questi pazienti avevano anche problemi a spiegarsi più che altro abbiamo notato studiando le cartelle che in un caso in particolare a un paziente venne applicato una serie di terapie shock adiazol shock e il medico ha notato a immagine che a un certo punto il paziente appunto risponde per un'ora interrottamente in italiano a tono come se fosse una conquista di questa terapia che adesso parla italiano quindi erano già il fatto di parlare un'altra lingua era vista come una cosa strana rispetto abbiamo però anche visto cose molto semplici come i nomi mi sono anche chiesto come dobbiamo chiamare le persone sui libri di patismo era scritto Joseph o Margareta poi diventavano nomi italiani quando si cambia il nome perdi un pezzo anche dell'identità diventi Giuseppe o Biagio prima eri Blasius e sono processi di una certa violenza qui possiamo proprio entrare un po' più nel questo sconvolgimento se puoi andare avanti ancora sì fino forse ecco l'ospedale psichiatra di Udene vorrei a proposito delle famiglie delle persone delle storie di persone leggere una piccola parte della nostra ricerca che racconta da un po' l'idea che erano queste persone perché poi finché non li incontri personalmente restano sempre numeri quindi con quale nome dobbiamo quindi chiamare le persone ho deciso di chiamarle con i nomi che ho visto sul libro del battesimo quindi Magareta Iosef eccetera al momento della deportazione nel maggio 940 sono relativamente giovani più giovani a 16 anni poi 17 quindi due minor regni e la più grande ha 46 anni sono tre donne e cinque uomini provengono appunto da Tarvisio da Ugovizza da Camporosso alcune famiglie si nota si sono proprio formate ancora prima della prima guerra mondiale in quello che era l'impero ostro-ungarico magari la moglie veniva dalla zona di Klagenfurt o del Trentino aveva incontrato un uomo che veniva da Tarvisio di lingua tedesca si erano sposati poi la prima guerra mondiale lo spostamento del confine che ha reso italiano ha fatto diventare italiano questa zona della Valcannale ha portato poi alla disgregazione letteralmente di certe famiglie divorzi magari la moglie tornava in carinzia in un caso in particolare che sentiremo dopo era così la difficoltà di trovare lavoro la povertà la miseria erano l'unica cosa che avevano in comune tutti era proprio la povertà e la miseria in realtà abbiamo trovato delle storie molto differenti per il resto le cartelle cliniche non permettono di risalire con certezza agli elementi chiavi della biografia però possiamo appunto per esempio notare che in due casi il ricovero era causato dal fatto che moriva per esempio la madre di un giovane ragazzo disabile il padre anziano non riusciva semplicemente a gestirlo a casa era incatenato a casa e quindi come l'ha portato al manicomio di Udine e questo voleva dire a 90 km di distanza prima dell'annessione della Val Canale l'ospedale sarebbe stato a 20-30 km di distanza e appunto magari si potevano anche comprendere a vicenda invece qui questa comprensione delle volte mancava c'era un bracciante le donne erano casalinghe o domestiche e si può notare che nel corso poi della storia dei pazienti questa differenza tra chi riusciva a lavorare e chi non riusciva a lavorare delle volte soprattutto con l'arrivo poi in Germania poteva significare morte o vita perché era un criterio per tedeschi di selezione la capacità lavorativa dei pazienti se andiamo ancora un attimo avanti questo era l'ospedale non negli anni 70 ma insomma più o meno erano queste le condizioni forse un po' peggio nel 1940 Josef Treuthandl che aveva subito questi shock terapie che gli hanno rotto anche la spalla appunto che poi nella cartella era scritto viene trasferito all'ospedale psichiatrico di Pergin Trento per essere in seguito rimpatriato in Germania avendo i parenti in carinzia e cioè in relazione agli accordi sull'opzione avvertito oggi che deve essere trasferito in Germania è tornato depresso d'umore fra l'altro la parola rimpatriato era assolutamente una falsità sì falso era soprattutto nella maggior parte dei casi perché è una formula che si trova in tutte le cartelle avendo i parenti in carinzia invece non era così nella maggior parte dei casi i parenti o non erano ancora in carinzia qualcuno è anche andato dopo ma nella maggior parte non si erano ancora trasferiti e comunque e questo è un dettaglio importante il prefetto italiano Mastro Mattei aveva ancora quando l'opzione era in corso stabilito che i pazienti dovevano seguire le famiglie in carinzia poi lui dopo il disastroso risultato delle opzioni è stato sostituito da Agostino Podestà a Bolzano prefetto che andava molto d'accordo con i funzionari tedeschi e questi hanno impostato una linea molto più sì proprio tedesca nel senso che avevano già molto esperienze con trasporti di massa di portazioni in realtà i pazienti questa cosa del trasporto delle opzioni e deportazione dei pazienti era un'eccezione i tedeschi con i pazienti psichiatri di altre situazioni non venivano in Polonia uccisi di massa negli ospedali psichiatrici e pazienti psichiatrici quindi hanno imposto questa linea di grandi trasporti numericamente e in un lontano centro che era vicino a uno dei centri della morte che era Zvifalt l'ospedale psichiatra di Zvifalt dove sono poi arrivati da Pergine il 26 maggio 1940 senti comunque dato che il tempo di questa conferenza si sta andando verso la fine magari ci può essere qualche domanda anche del pubblico penso che sia importante dire anche quali sono stati poi gli esiti di queste vite come ho detto per molto tempo si è pensato che fossero stati uccisi invece per un motivo puramente diplomatico non è successo delle persone della Val Canale sappiamo ci sono state trovate sei cartelle cliniche quattro persone sono morte per cause non del tutto certe entro il 45 Magareta subito dopo l'arrivo dopo no Edoardo Tribuc subito dopo questo ragazzino della famiglia slovena Magareta dopo due anni altri quelli più robusti che lavoravano anche nell'ospedale psichiatri hanno vissuto addirittura fino al 1977 è morto Giuseppe Truett Handel abbiamo poi saputo che tramite scambio con diciamo i ricercatori tedeschi che insomma è uno scambio molto importante perché venivano fuori informazioni che che mettevano le persone in tutta un'altra luce di Magareta che sembrava proprio una persona così Magareta è questa che è rappresentata anche sulla cortina è una delle persone che vi hanno colpito di più per la sì è una di quelle per la quale abbiamo un po' più completato la ricerca sono tutte storie molto coinvolgenti la sua è stata così la prima sulla quale abbiamo lavorato e sembrava una persona completamente sì sola lasciata sola dalla famiglia mentre nella cartella verso l'archivio tedesco veniva fuori che i genitori l'avevano cercata anche se erano separati che hanno portato mandato dei pacchi che hanno raccontato la storia di vita anche un po' di Magareta del fatto che suonava il pianoforte che a Padova lavorava come domestica e poi ha avuto questa crisi non so se abbiamo il tempo di leggere la storia forse no possiamo per il momento con un ultimo slide dove ci portate se è Olga è evasa dell'ospedale tedesco nel 1945 e mi piace sempre concludere con lei perché è evasa dell'ospedale e ha preso in mano ha potuto prendere in mano la propria vita mentre questo dove ci portate c'è questa dimensione di assoluta di questo essere fragile indifesi delle persone l'ultima slide è questo del trasporto una delle poche un monumento per le vittime dell'azione T4 in Germania mentre in Germania c'è questa grande cultura della memoria io dico sempre in Italia c'è stata questa grande rottura con l'istituzione psichiatrica che un altro sì non voglio dire che c'è una c'è stata un'unione di queste due sensibilità diciamo quella storica e quella psichiatrica queste sono foto della storia di Margherita dove è nata la stiria dove è nata se vai avanti la chiesa dove è stata battezzata Margherita al momento del ricovero nella clinica psichiatrica di Padova e poi Margherita che sette anni dopo solo trasformata prima della partenza per 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 la Germania è morta all'età di 29 anni a Zrifalt dopo due anni che era lì dove ci portate in tedesco è sempre un dettaglio del monumento per le vittime della psichiatria nazista e dove ci portate in tante lingue perché come una spiegata dove dove hanno spostato dove hanno taken us perché è comunque un tema attuale magari sono altre persone che in questo momento ci chiedono dove ci portate oppure non vengono portate dove vorrebbero arrivare dai laghi ai confini dell'Europa però anche tenere sotto occhio la storia insomma la la psichiatria attuale è importante perché c'è qualcuno che magari vorrebbe tornare a situazioni precedenti a quelle della riforma vediamo se c'è qualche domanda o qualche anche trasmissione di esperienza personale o di conoscenze di qualche situazione simile a quelle che abbiamo descritto sì come facciamo si può parlare parlo parlo volevo sapere quindi tutte queste persone nessuno è tornata indietro cioè avete siete riusciti a scoprire se le famiglie se qualcuno si è ricongiunto oppure no sappiamo che proprio grazie agli ricercatori tedeschi che Olga avrebbe voluto tornare ma aveva ormai perso la cittadinanza italiana e le informazioni si fermano lì no tutti gli altri quattro sono morti lì e subito entro il 45 altri due praticamente nell'ospedale psichiatrico tedesco i pazienti si torolesi erano molto di più molto più numerosi e lì ci sono stati singole storie anche di ritorno pochi pochi comunque perché quando una persona l'internamento in un ospedale psichiatrico questo bisogna anche avere molto chiaro non è che la deportazione fosse ha sconvolto sicuramente ulteriormente le storie di queste persone ma faccio un esempio a Uden nell'ospedale psichiatrico sono morti 500 c'era una mortalità altissima durante la seconda guerra io non so se Margherita forse sarebbe stata fra le vittime la condizione prima che ha condizionato la vita di queste persone era proprio l'interamento manicomio che poi è stato aggravato sicuramente da questa deportazione ma sì solo aggravate non era già di per sé un drama fine ok va bene allora ringraziamo voi per la grazie grazie